I carabinieri di Montebelluna lo hanno rintracciato ed arrestato. Per lui si sono aperte le porte del carcere. Si tratta di un medico ginecologo 54enne che esercitava all'ospedale di Montebelluna. È accusato di violenza sessuale aggravata e continuata. L'uomo dovrà spiare la pena di quasi tre anni, di reclusione. Il giudice ha confermato anche l'esecuzione delle pene accessorie, quale l'interdizione dei pubblici uffici e la sospensione della professione per la durata della pena principale. L'arresto è avvenuto sulla base delle prime due condanne passate in giudicato. Nel primo caso il professionista condannato in rito abbreviato ad un anno avrebbe importunato una paziente poco più che ventenne durante una visita ginecologica avvenuta all'ospedale di Castelfranco. A marzo 2020 un'altra paziente visitata all'ospedale di Montebelluna aveva denunciato di essere stata pesantemente molestata dal ginecologo in due visite distinte. Per il secondo episodio è stato condannato a due anni e sei mesi. Non solo ma una terza donna dal Montebellunese si era fatta avanti accusando il 54enne di averla molestata durante una visita ginecologica. Per questo terzo caso il medico è stato condannato in primo grado ad un anno e quattro mesi. Ora si trova nella casa circondareale di Treviso. Chiederemo la conversione in misure alternative, ha annunciato il suo legale l'avvocato Alessandra Nava.